FB Markets è uno dei principali broker per fare trading CFD a livello europeo. È principalmente un broker Forex molto apprezzato, ma consente di negoziare anche su azioni, indici, materie prime e valute digitali. È un broker regolamentato che offre numerosi servizi, spread, bassi, oltre a tantissimo materiale di formazione gratuito come ebook, videocorsi e webinar. In questa video recensione vedremo quindi come funziona FB Markets, come registrarsi alla piattaforma e quali sono le principali caratteristiche della piattaforma di trading. Mettetevi comodi e partiamo! Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi continuiamo con la nostra serie di video dedicata alle migliori piattaforme di trading. In particolare oggi ci occuperemo di FB Markets, ovvero uno dei broker CFD più apprezzati in Italia. FB Markets è un broker regolamentato a livello globale da ASIC, che sarebbe la nostra Consob, in Europa dalla ASIC e ovviamente è registrato in Consob. Il broker nasce come intermediario dedicato al Forex, ma nel corso degli anni ha saputo conquistare sempre più clienti ed oggi è in grado di offrire numerosi asset come materie prime, indici, azioni e oltre alle valute digitali. È bene precisare che il trading offerto è disponibile solo con i CFD, ovvero contratti per differenza. FB Markets offre piattaforme di trading avanzate come la MetaTrader 4 e la 5. Inoltre è noto per i suoi spread competitivi e per l'esecuzione rapida degli ordini, cosa che lo rende una scelta ideale sia per i principianti che per i professionisti del trading. Naturalmente in descrizione ti lascio qui sotto il link per registrarti gratuitamente alla piattaforma. Andiamo allora subito al PC a vedere come funziona la piattaforma di trading. Appena entrati sul sito di FB Markets notiamo che ci sono due versioni, una per i clienti europei e l'altra per tutti gli altri. Gli utenti europei infatti vengono gestiti dalla piattaforma dedicata proprio agli utenti europei, regolamentata quindi da SISEC. Il broker è infatti registrato poi presso la CONSOB. Questo serve in quanto gli utenti italiani seguono le regole imposte dalla SMA, dunque i broker hanno alcune regolamentazioni a cui devono sottostare, tra cui quella della leva finanziaria che ricordiamo non può superare 1 a 30. Nella versione .com infatti è possibile per gli altri utenti dei paesi esteri arrivare anche a leve finanziarie fino a 1,5%. Che cos'è quindi FB Markets? FB Markets è un broker di trading fondato nel 2005 con sede in Australia. Offre ai suoi clienti l'opportunità di fare trading su vari strumenti finanziari come il Forex, l'indice di materie prime, le criptovalute tramite i CFD, cioè i contratti per differenza. La piattaforma è conosciuta per la sua esecuzione rapida degli ordini, per gli spread competitivi e per un servizio clienti di alta qualità. FB Markets dispone di numerose autorizzazioni infatti regolamentate dall'Australian Securities and Investment Commission, l'ASIC, e dalla Cyprus Security Exchange Commission, cioè dalla SISEC per i clienti europei, il che garantisce un elevato livello di protezione e sicurezza per i clienti. Quindi parliamo di un broker che esiste da oltre 15 anni. Parliamo un po' di regolamentazioni. La scelta di una piattaforma di trading è importante per garantire un'esperienza di trading sicura. Non è quindi facile valutare con cura tutti gli aspetti di una piattaforma per cercare di estrabolare dei criteri oggettivi. La prima cosa da considerare nella scelta di una piattaforma di trading è appunto la regolamentazione. È importante che la piattaforma sia regolamentata da un'autorità finanziaria affidabile come la SISEC o la FCA per garantire che sia sicura e che soddisfi tutti i requisiti di conformità. Questo garantirà che i fondi degli utenti siano al sicuro e che siano gestiti in modo trasparente. Per operare in Italia un broker deve iscriversi in Consob, così come ad esempio gli exchange devono ottenere l'iscrizione all'OAM, cioè l'organo di agenti e mediatori. Le regolamentazioni servono anche per evitare di cadere in truffe o broker poco convenienti come quelli che offrono sistemi automatici per investire in criptovalute o che sfruttano le ultime notizie di mercato per attirare investitori poco consapevoli che vogliono solo fare soldi facili. In Europa quindi è la SISEC che è l'ente che si occupa di regolamentare il mercato finanziario mentre in Italia la Consob controlla la borsa e le società quotate. Inoltre la European Securities and Market Authority, cioè la SMA, è l'organismo dell'Unione Europea che effettua i controlli sul mercato europeo ed impone dei limiti per esempio alla leva finanziaria per alcuni strumenti. Per operare sul mercato europeo infatti le piattaforme devono rispettare regole molto precise per proteggere gli investitori e quindi scegliere una piattaforma regolamentata garantisce maggiore sicurezza e trasparenza per gli utenti. Andiamo quindi sulla pagina delle regolamentazioni e vediamo che per quanto riguarda gli utenti europei FMP Markets è effettivamente regolato dalla SISEC. Per operare in Italia deve essere inoltre registrato in Consob. Se andiamo nel footer del sito vediamo che la società si chiama First Prudential Markets, quindi andiamo sul sito della Consob a vedere se effettivamente esiste questa società. Se andiamo infatti sul sito della Consob nelle imprese registrate e cerchiamo FMP Markets vedete che è presente quindi questo è un primo indicatore di sicurezza. Certamente non possiamo essere sicuri al 100% di niente, abbiamo visto in questi mesi anche banche svizzere fallire. Comunque come ho detto è un broker che esiste da molti anni. Tra gli altri fattori di sicurezza vedete che abbiamo la segregazione dei fondi, ovvero i fondi dei clienti al dettaglio sono sempre tenuti separati dal capitale dell'azienda e vengono tenuti in conti segregati in banche. I conti della società sono controllati inoltre da società di revisione. Andando sul sito ufficiale notiamo come prima cosa alcune delle caratteristiche più importanti di questo broker. Nessuna commissione, spread bassi a partire da 0 pip e una leva finanziaria massima di 1 a 30 secondo le regole delle SNA. Vi faccio vedere il .com come sito perché tradotto in italiano ma effettivamente è il .eu a gestire i clienti italiani. Infatti se andiamo a vedere il sito fpmarkets.eu vedete che sulla destra abbiamo una leva impostata 1 a 30 e c'è la regolamentazione della SISEC. Abbiamo poi molta tecnologia, la possibilità di fare trading su numerosi asset finanziari e come abbiamo detto alcune funzioni avanzate che vediamo tra poco come il copy trading e alcune informazioni per quanto riguarda le regolamentazioni che abbiamo visto poco fa. Oltre a un'app di trading che si può scaricare semplicemente. Su cosa si può negoziare su FB Markets? Vedete che abbiamo alcuni degli strumenti su cui si può fare trading tra cui oltre 70 coppie forex, le azioni più popolari, gli indici, le materie prime naturalmente e le principali criptovalute. Nella sezione degli strumenti vedete che abbiamo accesso a varie piattaforme come la MetaTrader 4 e 5 tra le più utilizzate fra i trader oltre a una versione mobile web trader che è disponibile per iPhone e dispositivi Android. Altra funzione molto interessante è quella del copy trading che come sapete viene offerta anche da altri broker come Toro o da exchange come BitGet ad esempio per le criptovalute. Vi lascio tra l'altro qui sotto i link in descrizione per accedere a questi servizi. Cosa è possibile fare? In buona sostanza è possibile cercare gli utenti iscritti con le migliori performance, seguirli e replicarne le operazioni. Qui c'è scritto che non c'è bisogno di sviluppare un tuo piano di trading ma se mi segui saprai che io non la penso esattamente così. Il copy trading come sapete è utile ma non è che dall'oggi al domani inizia a guadagnare senza fare nulla. Bisogna cercare bene gli utenti. Se vuoi saperne di più ho proprio parlato di copy trading in un video che ti lascio qui sopra e in descrizione. Molto importante è la sezione dell'assistenza che è multilingua dunque puoi scrivere e telefonare parlando in italiano perché c'è il supporto disponibile. Se clicchiamo infatti su all free numbers vedete che per l'Italia c'è un numero verde 800 specifico proprio per i clienti italiani. Ma è possibile comunque chattare in tempo reale con un operatore scrivendo anche in italiano oppure scrivere una mail al supporto tecnico in caso di problemi. Ad ogni modo quando ci si registra si ottengono naturalmente tutte le informazioni del caso per poter avere supporto dai tecnici. È possibile anche prenotare un appuntamento telefonico ed essere chiamati. Come vedete qui c'è la richiesta di callback. Andiamo a vedere allora i principali tipi di conti disponibili. Come vediamo qui abbiamo un conto standard a zero commissioni con spread che partono da un pip. È possibile depositare su un conto in valuta euro e questo è molto importante in quanto non c'è il problema legato al detenere conti in dollari o altre valute quindi non ci si espone al rischio del tasso di cambio. Abbiamo come vedete un maximum leverage di 1,30 con ovviamente la possibilità di provare tutti i servizi con un conto demo. E come vedete il deposito minimo parte da 50 dollari o euro o sterline a seconda della valuta che scegliamo. Per chi non ha grossi capitali da investire il conto standard è probabilmente la scelta migliore anche se si pagano degli spread a partire da un pip. Vedete qui che abbiamo un'altra scelta che è quella del conto raw diverso in cui ci sono delle commissioni ma spread più bassi. Ad esempio come vedete in questo conto c'è una commissione di 3 dollari per lotto ma vedete che se avete ad esempio una liquidità che ne so di 10.000 euro forse conviene questo tipo di account in quanto poi le commissioni diventano trascurabili e gli spread sono di fatto azzerati e quindi si hanno meno costi variabili. Per quanto riguarda il forex abbiamo nello specifico più di 70 coppie su cui negoziare. FPMarkets è infatti specializzato nel trading forex in quanto nasce proprio come broker forex. Poi ovviamente si è specializzato in tutto il resto e ora è un broker completo che consente di negoziare su praticamente quasi tutti gli asset di mercato. Qui vedete che ci sono anche dei conti dedicati ai professionisti che hanno condizioni diverse e una leva più alta fino a 1.500 ma ovviamente non ci interessano. Andiamo a vedere allora come è possibile depositare e prelevare. Dopo andremo a registrarci per vedere come funziona la piattaforma e tutto il resto. Come vedete essendo un broker regolamentato consente di depositare con metodi tracciabili e ovviamente bisogna usare lo stesso metodo di pagamento sia in fase di deposito che di prelievo. Questo per le normative legate all'antiriciclaggio. Ci sono diversi metodi per versare sul proprio conto FPMarkets, le carte di credito, Paypal, bonifico bancario e poi altri metodi di trasferimento elettronici che in Italia non usiamo ma che comunque ci sono. Naturalmente FPMarkets come leggiamo qui non applica commissioni ma ci potrebbero essere delle commissioni applicate dalla vostra banca o dal servizio di gestione di carte di credito. Per quanto riguarda il deposito con carte di credito abbiamo un deposito pressoché istantaneo mentre con altri metodi come ad esempio Paypal abbiamo un giorno lavorativo per vedere effettivamente accreditati i fondi sul nostro conto FPMarkets. Per i prelievi come vedete non ci sono commissioni di prelievo sia per le carte di credito che per Paypal in tutte le valute e anche per i bonifici bancari che ci mettono da 1-3 giorni lavorativi per essere elaborati. Qui tra l'altro per una maggiore trasparenza ci dice anche l'istituzione di riferimento per il metodo di pagamento ad esempio la banca di riferimento del servizio. Per Paypal ad esempio Paypal Europe Service LTD una società registrata nel Regno Unito per le banche abbiamo una banca cipriota. Andiamo allora a vedere quali sono le piattaforme disponibili di FPMarkets e poi proveremo a registrarci. Vedete qui che abbiamo diverse piattaforme abbiamo due versioni e MetaTrader 4 e MetaTrader 5 che possiamo scaricare sia per Windows che per Mac. Abbiamo poi una piattaforma WebTrader che in pratica ci consente di usare la MetaTrader nelle due versioni senza scaricarla direttamente all'interno del browser. Poi un'app mobile per controllare tutte le nostre operazioni di trading. Parliamo quindi di una piattaforma con esecuzione di ordini molto veloce che dispone di tantissimi strumenti anche per automatizzare molti processi di trading. Vedete qui le caratteristiche della MetaTrader 4, più di 30 indicatori tecnici, 31 oggetti grafici per i modelli grafici, 9 time frame su cui operare, 4 tipi di ordine tra cui quelli a mercato ai classici ordine limite con stop loss e take profit. Abbiamo poi una versione più evoluta che è la MetaTrader 5 che ha la contabilità separata di ordini e operazioni, più di 38 indicatori tecnici, 44 oggetti grafici per i modelli grafici, 21 intervalli di tempo, 8 tipi di ordine e il supporto per MQL4 e MQL5. Infine l'app mobile che ti permette di controllare le operazioni anche dal tuo smartphone, in particolare più di 60 coppie di valute Forex, più di 10.000 strumenti finanziari, più di 400 azioni, accesso ai mercati finanziari per 5 giorni lavorativi e un'interfaccia molto semplice da utilizzare. Ovviamente l'applicazione è disponibile su tutti i dispositivi sia iOS che Android. Prima di passare a vedere come funzionano le piattaforme da un punto di vista pratico parliamo di questa caratteristica che distingue FP Markets da molti broker. Si tratta come vedete di un broker ACN che sta per Electronic Communication Network. Cosa significa? Che in pratica FP Markets è un broker che offre prezzi ECN e quindi comunica i prezzi di ricevuti direttamente da fornitori di liquidità e quindi può offrire le condizioni migliori per il trading. Per dirle in parole semplici, se voglio fare trading su una coppia Forex, ad esempio sul cambio euro-dollaro, apro un ordine ed FP Markets si interfaccia con tutti i suoi fornitori di liquidità, dandoci il prezzo migliore per poter soddisfare la richiesta. Quindi il CFD sottostante non viene erogato da FP Markets stessa come avviene per esempio in altri broker Market Maker. Tipicamente questi broker cosa fanno? Comprano CFD che poi rivendono ai loro prezzi, in pratica fanno il mercato. Con questa modalità FP Markets invece può fornire dei prezzi migliori in un tempo tra l'altro estremamente veloce. L'esecuzione degli ordini quindi avviene in modo ottimale ed istantaneo. Qual è meglio come modalità? Non c'è un vincitore assoluto, diciamo che ci sono vantaggi e svantaggi. Come sapete un CFD replica sostanzialmente l'andamento di un asset quotato. Ci possono essere quindi delle differenze leggerissime sul prezzo dovute alla liquidità che in quel momento ha il broker. Con la modalità ACN, FP Markets generalmente appoggiandosi a più fornitori può fornire questi prezzi in base alle condizioni dei liquidi di providers. L'altra modalità invece che utilizzano molte piattaforme è quella del Direct Market Access o DMA, cioè si accede in modo diretto ai prezzi di mercato. Magari chi ha conti alti e fa numerose operazioni potrebbe voler fare il prezzo come si dice in gergo senza avere delle quotazioni proposte. La maggior parte dei broker che conosciamo oggi non utilizza questa modalità ma quella del Market Making, ovvero fanno da controparte per i nostri ordini. In effetti FP Markets ha anche la modalità DMA ma non per i clienti europei. Quindi se vogliamo un broker Market Maker non fa da semplice intermediario ma ha un proprio mercato. Si chiama infatti Market Maker proprio perché fa il mercato. I broker con accesso diretto cioè DMA fanno invece semplicemente da intermediari puri. Quindi la controparte la fanno gli altri utenti che inseriscono di fatto gli ordini. Qual è il problema di tutto questo? Che bisogna avere sempre una controparte che vuole acquistare o vendere mentre i Market Maker garantiscono comunque che ci sia liquidità. Andiamo allora a vedere come utilizzare praticamente FP Markets. Come prima cosa è necessario fare la registrazione. Come prima cosa dobbiamo fare la registrazione quindi clicchiamo su Open Live. Per registrarci è sufficiente inserire la mail oppure facciamo il login direttamente con un account Google o Facebook se ne abbiamo uno. Scegliamo Italia come paese e inseriamo il numero di cellulare accettando le condizioni d'uso. La procedura come sapete è sempre la stessa per tutti i broker. Ci arriva quindi nella casella di posta un link di attivazione per creare il nostro account gratuito. Una volta confermato l'account possiamo accedere con le nostre credenziali. Inseriamo email e password e facciamo l'accesso. Ci ritroveremo quindi in questa schermata che rappresenta la dashboard di FP Markets in cui possiamo vedere varie informazioni come ad esempio un riepilogo dei conti. Su FP Markets infatti possiamo creare più conti demo e più conti reali. Lo storico dell'attività di trading, la possibilità di aggiungere un conto reale addizionale o un conto demo addizionale, la possibilità di modificare i nostri dati quindi della piattaforma. Questa parte di modifiche invece di leva del conto è dedicata solo ai professionisti. Come sapete per le disposizioni imposte dalle SMA possiamo avere una leva massima di 1 a 30. In depositi e prelievi vedete che abbiamo tutte le opzioni a disposizione, carte di credito o metodi di pagamento elettronici come Apple Pay o Google Pay, trasferimenti con un bonifico bancario, addirittura depositi con criptovalute. Nella sezione delle piattaforme vedete che abbiamo tutte quelle che abbiamo citato precedentemente, la MetaTrader sia in versione 4 e 5 ed accessibile via web oppure tramite il download sia per sistemi operativi Windows che per Mac. Io prevedisco scaricarla perché è più personalizzabile ma anche la versione web va bene. Poi abbiamo ovviamente anche le versioni mobile sia per Android che per iOS. Nella sezione trading sociale abbiamo le classiche funzioni di copy trading che troviamo anche su altre piattaforme come eToro ad esempio. Qui sotto vedete già un elenco di trading da copiare che si possono ordinare per rating oppure per ritorno sull'investimento. Funzione esattamente come le classiche funzionalità di copy trading. Magari faremo un video apposito su questa sezione se vi interessa. Fatemelo sapere nei commenti. Altra sessione interessante è quella degli strumenti di trading. Come vedete qui abbiamo AutoChartis che è in pratica un servizio di segnali di trading. AutoChartis è uno degli strumenti più avanzati che semplifica analisi tecnica aiutandoti ad identificare ottime opportunità di trading. L'AutoChartis quindi è un servizio utile soprattutto per i principianti. Le opportunità vengono inviate tramite notifiche o via mail. Ci sono più di mille suggerimenti e idee al mese e vengono coperti un po' tutti gli asset dal forex fino alle azioni e anche le criptovalute. Naturalmente vi ricordo che come tutti questi strumenti finanziari le performance passate non sono garanzie di risultati futuri quindi siete sempre voi a prendere le decisioni finali. Da considerare però che generalmente questi servizi vengono offerti da altre piattaforme a pagamento qui invece sono gratuiti quindi un bel vantaggio per gli utenti. Questa diciamo è la schermata principale dell'account di fpmarkets o dashboard. Come vedete per semplicità io ho già creato due conti. Un conto reale che viene elencato sotto questa sezione conto reale è un conto demo. È possibile creare sia conti demo per MT4 che per MT5. In particolare in questo tutorial ti vorrò vedere l'accesso alla web trader per quanto riguarda la metatrader 4 e poi andremo a vedere la versione scaricata su desktop per il Mac per quanto riguarda la metatrader 5 che secondo me è più completa. Partiamo quindi dalla piattaforma web. Andiamo nella sezione dei conti e vedete che posso aggiungere un conto reale o un conto demo. Qui ne vedete due che ho creato in precedenza. Supponiamo di voler creare un conto demo quindi clicchiamo su aggiungi conto demo e si aprirà questa schermata in cui possiamo scegliere la piattaforma tra metatrader 4 o metatrader 5. Scegliamo ad esempio metatrader 5 e vedete che nella sezione add metatrader account possiamo scegliere varie informazioni, impostare la valuta del nostro conto demo quindi possiamo scegliere sia dollari che euro, il tipo di conto che andremo a creare standard o row, la leva finanziaria e la password per il conto demo. Vi ricordo che questa leva finanziaria è dimostrativa la leva infatti per i conti europei è di 1 a 30. Inseriamo tutti questi dati e clicchiamo su aggiungi conto. Fatta questa operazione in riepilogo conti vedremo comparire qui il nostro conto demo. A cosa ci servono questi dati che abbiamo inserito quindi la password che è diversa da quella dell'account a fare naturalmente l'accesso alla piattaforma. Questo conto demo che ho creato è per la metatrader 4 ed è in dollari come vedete. Come si fa quindi ad accedere alla piattaforma? Andiamo nella sezione piattaforma in fondo clicchiamo su mt4 metatrader. Posso anche ovviamente fare lo switch a metatrader 5 se ho creato una versione dimostrativa di metatrader 5. Vedete qui che ho fatto l'accesso alla piattaforma demo che per comodità posso mettere anche a tutto schermo quindi stiamo facendo trading all'interno del browser. A sinistra vedete che ci sono tutti i mercati disponibili e a destra il grafico. Prendiamo ad esempio la coppia euro sterlina. Come si fa ad agire su questa coppia? Clicchiamo col tasto destro del mouse e clicchiamo su finestra chart. Vedete qui che si apre la finestra del grafico. In alto nella barra degli strumenti vedete che ho varie opzioni disponibili. Posso cambiare la visualizzazione del grafico. Posso andare al grafico a barre oppure al grafico a candele che stavo utilizzando precedentemente o al grafico a linee se vogliamo fare un'analisi di dettaglio. Abbiamo poi degli strumenti grafici molto interessanti. Posso ad esempio tracciare delle linee verticali oppure posso tracciare ad esempio delle trend line. In qualsiasi momento posso rimuovere questi oggetti facendo tasto destro cancella oggetto sull'elemento che ho aggiunto. Poi vedete qui che abbiamo l'elenco dei time frame da m1 quindi dal grafico a un minuto a 5 minuti 15 minuti 30 minuti il grafico orario quello di 4 ore il daily il weekly e ovviamente il grafico mensile. Dal menu inserisci possiamo ad esempio inserire gli indicatori più comuni. In tendenza ad esempio possiamo pensare di inserire le bande di bollinger. Impostiamo i parametri clicchiamo su ok e vedete che vengono tracciate sul grafico. Oppure posso inserire altri indicatori ad esempio la media mobile vado in indicatori tendenza moving average. Supponiamo di voler inserire una media mobile a 50 periodi. Inseriamo 50 vedete qui posso utilizzare una media semplice o esponenziale. Clicco su ok e mi verrà disegnata nel grafico. Sotto vedete qui che ho un conto demo a disposizione con circa 100 mila euro e abbiamo delle finestre trade che ci fa vedere gli ordini in corso, la cronologia con tutte le operazioni e un diario. Per inserire un nuovo ordine possiamo cliccare in questa finestra qui in alto per inserire degli ordini immediati con un click quindi facendo sell o buy oppure possiamo andare sullo strumento finanziario tasto destro e clicchiamo nuovo ordine. Vedete che possiamo impostare vari parametri come il volume, impostare lo stop loss, il take profit. Vedete qui che abbiamo vari ordini ad esempio l'esecuzione a mercato se vogliamo entrare subito un mercato con un ordine immediato oppure un ordine pendente se vogliamo utilizzare i classici ordini buy limit on sale oppure gli ordini buy stop e limit stop. Proviamo a fare quindi un ordine a mercato. Inserisco ad esempio il volume di 0.10 e clicco su buy buy market. Sotto vedete che ho nella finestra degli ordini l'ordine aperto ci va a vedere il prezzo, il profitto o la perdita che stiamo realizzando. In questo momento quest'ordine è leggermente in perdita. Cliccando su questa x che vedete a destra posso chiudere la posizione e terminare l'ordine. Vedete qui che se faccio doppio clic sull'ordine possiamo impostare stop loss e take profit e modificare tutti i parametri. Io vi consiglio comunque di utilizzare e scaricare la piattaforma per il vostro sistema operativo in quanto ci sono molte più funzioni e possibilità di personalizzazione. Andiamo a vedere invece la piattaforma desktop. Vedete qui che ho molte possibilità di personalizzare oltre a poter per esempio collegare più account. In questo momento vedete che ho collegato un conto fpmarkets ma se ho altri broker che utilizzano la metatrader ad esempio avatrade o xm posso inserire le credenziali di questi conti e collegarmi ai loro server sfruttando la metatrader per tenere tutto in un unico punto e poi decidere ad esempio su quale mercato operare. Una volta che abbiamo aperto la metatrader posso ovviamente fare login nel trading account e mettere le credenziali che ho creato durante la fase di creazione del conto demo come abbiamo visto sulla dashboard di fpmarkets e avrò l'accesso al server demo di fpmarkets. Ovviamente quando ho un conto reale qui nella login selezioneremo da questa finestra fpmarkets live per andare sulla parte reale del conto e ovviamente inseriremo le nostre credenziali. Andiamo a vedere quindi come funziona questa piattaforma metatrader 5 per quanto riguarda fpmarkets. Partiamo dal basso vedete nella sezione journal in cui c'è la cronologia delle operazioni che stiamo facendo o che abbiamo fatto in passato. Il funzionamento è molto simile a quello della metatrader 4 con qualche differenza. Vedete già in questo grafico che se clicco su proprietà del grafico posso modificare i colori ad esempio cambiare lo sfondo bianco e mettere in primo piano invece il nero. Posso ad esempio cambiare i colori delle candele ad esempio la candela rialzista posso metterla in verde mentre quella orso posso metterla in rosso per avere una visione più simile a quella di trading view e vedete che se cambio nel grafico a candele ho un aspetto grafico decisamente cambiato. Ovviamente posso aprire tantissimi grafici e passare da uno all'altro in qualsiasi momento. Se vado ad esempio sullo strumento posso fare clicca su finestra grafico tasto destro e si aprirà un altro grafico. Posso anche trascinare lo strumento finanziario ad esempio per avere le stesse impostazioni grafiche. Ad esempio prendo il cambio forex dollaro yen giapponese lo trascino dentro e come vedete ho il grafico con le stesse impostazioni grafici. Quindi posso ad esempio usare il rosso per le candele ribassiste e verde per quelle rialziste o personalizzare tutta l'interfaccia per rendere l'esperienza di trading magari più simile a piattaforme come trading view per chi è ad esempio abituato ad utilizzare questa piattaforma per fare analisi tecnica. A sinistra quindi nel market watch vedete l'elenco degli strumenti su possiamo cliccare su più e aggiungerli facendo una ricerca ad esempio digito ethereum e vedete qui ethereum dollaro e lo posso aggiungere. Oppure andare nel menu visualizza simboli e vedete che ho tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di fp markets divisi per categorie come ad esempio il forex con le principali coppie di valute, gli indici, le commodities, le principali criptovalute, le azioni del mercato europeo, quello del mercato americano fino ad arrivare agli etf. Supponiamo di voler aggiungere uno strumento clicco ad esempio sull'SP500 e clicco su mostra simbolo. Come vedete qui in alto a sinistra è stato aggiunto l'indice SP500 che posso trascinare nel grafico e vedete qui che mi compare questo strumento con le impostazioni grafiche che avevo impostato precedentemente. Quindi quali sono le modalità per aprire il grafico? Posso fare clic sul pulsante destro e poi finestra grafico oppure trascinare come abbiamo detto lo strumento dalla finestra del grafico e vengono mantenute le stesse impostazioni e sostituito il grafico che abbiamo prima. In basso a sinistra poi abbiamo il navigatore che ci fa vedere i conti che abbiamo aperto, un elenco di indicatori e eventuali expert advisor che stiamo utilizzando. Prendiamo ad esempio il grafico di bitcoin e scegliamo un time frame daily. Vedete qui che ho come nella versione web i vari time frame su cui io posso operare da un minuto fino al mensile. Clicchiamo sul grafico giornaliero. Vedete in questo momento bitcoin sta scendendo. Anche in questo caso per gli indicatori posso utilizzare la stessa modalità quindi cliccare su inserisci indicatori e vedete qui l'elenco di tutti gli indicatori e oscillatori disponibili. Oppure in modo più comodo trascinare dal navigatore l'indicatore che mi interessa. Ad esempio voglio inserire di nuovo la media mobile prendo l'indicatore moving average e lo sposto sul grafico. Ad esempio scelgo una media semplice a 50 periodi con un colore ad esempio che ne so giallo e posso anche impostare il tratto per renderla più evidente. Clicco su ok e vedete che mi compare la media mobile a 50 periodi. In questo caso lo sfondo bianco non è visibile quindi posso cliccare sulle proprietà e ad esempio cambiare il colore mettendo il blu. Posso farlo con tanti altri indicatori ad esempio prendo dagli oscillatori il relative strength index cioè l'RSI lo trascino dentro e vedete che mi compare qui sotto l'indicatore. Come faccio ad eliminare o modificare questi indicatori? Tasto destro vedete qui che ho una voce lista indicatori in cui li posso eliminare. Seleziono ad esempio l'indicatore che voglio eliminare e clicco su elimina e vedete che sono ritornato nella situazione di partenza. Naturalmente anche in questo caso posso utilizzare gli strumenti di disegno quindi tracciare delle linee verticali oppure delle linee di tendenza. Anche in questo caso tasto destro lista oggetti per poterli eliminare. Li seleziono clicco su elimina e vedete che ho ripulito il grafico. Nella parte bassa possiamo vedere varie informazioni. In operazione di trading ci fa vedere gli ordini aperti e in corso di esecuzione. In esposizione ci mostra come è composto il nostro portafoglio in termini percentuali. Abbiamo poi una sezione molto importante del calendario che ci fa vedere il calendario economico con tutti gli eventi in arrivo. Come sapete ad esempio i FOMC o le dichiarazioni della Fed hanno un impatto diretto sul mercato quindi qui troviamo tutte le informazioni più importanti da monitorare. All'interno di segnali vedete qui che nei segnali è possibile vedere le statistiche, il saldo, il profitto, le recensioni e quanti iscritti stanno copiando attualmente quel fornitore. Prima di utilizzare questi segnali ovviamente assicurati di controllare bene le statistiche e che non stiano operando in demo. Oggi ci sono altre cose come ad esempio le news e altre funzioni. Insomma come sapete la MetaTrader è una piattaforma su cui si può fare veramente di tutto. Andiamo a vedere ad esempio come inserire un ordine. Basta cliccare sullo strumento ad esempio in questo caso Bitcoin USD, cliccare su un nuovo ordine e vedete che ho la classica finestra che avevo anche nella piattaforma web. Posso quindi inserire ordini a mercato o ordini pendenti. Quindi impostiamo i nostri parametri quindi che volume negoziare, lo stop loss, il take profit e scegliere il tipo di ordine a mercato se voglio comprare o vendere oppure pendente cioè al verificarsi di determinate condizioni. Negli ordini pendenti troviamo i classici ordini come vedete qui nel tipo buy limit, sell limit, buy stop, sell stop e tutti gli altri classici ordini che troviamo su qualsiasi piattaforma di trading. Se volete capire come funzionano questi ordini ne abbiamo parlato sulla recensione di Binance che abbiamo realizzato qualche tempo fa e che trovate sul nostro canale YouTube. Supponiamo di voler vendere 010 Bitcoin a mercato quindi impostiamo il volume clicchiamo su sell per mercato e vedete qui sotto che compare il nostro ordine che attualmente sta perdendo. Ho inserito quindi un ordine di vendita di 010 Bitcoin al prezzo di 28.103 dollari. Vedete qui che il prezzo di Bitcoin sta leggermente risalendo quindi in questa posizione sarebbe in perdita. Se voglio chiuderla ovviamente posso fare tasto destro chiudi posizione. In esposizione vedete come è composto il nostro portafoglio principalmente da liquidità in euro e poi abbiamo una posizione che viene segnalata in rosso perché non è stata ancora chiusa. Infatti vado a chiudere questa posizione ad esempio in perdita clicco su chiudi posizione. Vedete qui che nel momento in cui ho chiuso la posizione di vendita su Bitcoin il mio saldo si è aggiornato. Se vi interessa un approfondimento ulteriore sulla piattaforma MetaTrader fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Altra cosa interessante è quella del centro formativo come vedete ci sono tantissime risorse come i video corsi su YouTube che spiegano tutte le funzionalità anche quelle più avanzate. I webinars a cui si può iscrivere sono gratuiti e si può vedere in tempo reale cosa sta facendo effettivamente il trader professionista in diretta. Poi abbiamo i podcast per chi vuole ascoltare su Spotify ad esempio e non ha tempo per vedere i video e poi tante altre informazioni come ad esempio gli ebook scaricabili e un glossario sulla terminologia. Ultimissima cosa al volo che vi voglio far vedere riguarda le commissioni e le fees. Abbiamo visto prima nella sezione dei costi e degli spread quali sono i vari tipi di conto quindi il conto standard e il conto raw. In questa pagina trovi il dettaglio di tutte le commissioni divise per strumento finanziario. Qui vedete la suddivisione in base al tipo di conto su Forex, metalli, materie prime, indici e criptovaluta. Poi sotto una tabella con le commissioni per quanto riguarda i CFD azionari e quella per gli ETF. In generale parliamo di un broker dalle commissioni estremamente convenienti e contenute. Andiamo a vedere infine le recensioni degli utenti reali che ne sono estremamente positive come vedete quasi 5.000 recensioni con un voto medio di 4,8. D'altra parte parliamo di un broker con oltre 15 anni di esperienza sui mercati che ha vinto tanti premi come potete leggere sul sito di FPMarkets. Ovviamente ci sono anche recensioni a una stella non tutti gli utenti ovviamente possono essere soddisfatti. Bene siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto quali sono le caratteristiche principali del broker FPMarkets e come funziona la sua piattaforma di trading. FPMarkets è considerato un broker di trading affidabile grazie a una vasta gamma di strumenti di trading e piattaforme oltre a spread competitivi e convenienti. La loro attenzione al servizio clienti e alla formazione degli utenti rende questo broker una scelta ideale per i trader di tutti i livelli di esperienza. Se stai cercando un broker regolamentato e affidabile per iniziare a fare trading FPMarkets potrebbe essere la scelta ideale per te. Ad ogni modo è possibile registrarsi gratuitamente e attivare un conto demo in modo da provare tutti i servizi della piattaforma prima di iniziare a fare trading. In descrizione ti lascio tutti i riferimenti ai vari approfondimenti e il link di registrazione alla piattaforma di FPMarkets. Naturalmente ti invito a iscriverti al canale per supportarti a mettere un bel mi piace e attivare le notifiche per non perderti altri contenuti. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto e ci vediamo al prossimo video.